Capitolo 13 Lucy Gray capì all'istante. I suoi occhi corsero ai pacificatori, che non badavano a loro. Poi si sporse per annusare il portacipria. Però si sente ancora il profumo. Meraviglioso. Come le rose. Come te, lo contraddisse. Sarebbe proprio come averti con me, vero? Coraggio allora, la incalzò lui. Portami con te. Prendilo. Lucy Gray si asciugò le lacrime con il dorso della mano. D'accordo, ma è un prestito. Prese il portacipria. Se lo fece scivolare in tasca, egli diede una piccola pacca. Mi aiuta a schierirmi le idee. In qualche modo vincere i giochi è una cosa troppo grossa anche solo da immaginare. Ma se dico, devo riportare questo a Coriolanus, riesco a convincermene. Parlarono ancora un po', soprattutto della struttura dell'arena e di dove potevano trovarsi i nascondigli migliori. E lui riuscì a farle mangiare mezzo panino e una pesca intera prima che la professoressa Sickle suonasse il fischietto. Coriolanus non sapeva bene come fosse accaduto, ma dovevano essersi alzati entrambi. Ed entrambi dovevano aver fatto un passo avanti, perché se la ritrovò tra le braccia, le mani contro il suo petto che gli artigliavano la camicia mentre la teneva stretta a sé. Penserò solo a te in quell'arena, murmurò lei. Non ha quel tizio del dodici? chiese lui, scherzando solo a metà. No, lui ha fatto in modo di uccidere tutto ciò che provavo nei suoi confronti, rispose. Adesso l'unico ragazzo che ha un posticino nel mio cuore sei tu. Poi gli diede un bacio, non un bacetto, un vero bacio sulle labbra con tracce di pesche e di cipria. La bocca di Lucy Gray, morbida e calda sulla sua, gli inondò il corpo di sensazioni nuove. Invece di tirarsi indietro, la strinse ancora più forte e il suo sapore e il suo tocco gli fecero girare la testa. Allora era di questo che parlava la gente, era questo che faceva impazzire le persone. Quando alla fine si divisero, Coriolanus respirò a fondo, come se riaffiorasse dagli abissi. Le ciglia di Lucy Gray ebbero un fremito e quando riaprì gli occhi i loro sguardi avevano la stessa espressione. Si sporsero nello stesso momento per baciarsi di nuovo, ma i pacificatori la afferrarono e la portarono via. Festus gli diede un colpetto con il gomito mentre uscivano dalla sala. Quello sì che era un addio. Coriolanus si limitò a una scrollata di spalle. Cosa posso dire? Sono irresistibile. Immagino, rispose Festus. Io ho provato a dare una pacca sulla spalla a Coral per rassicurarla e lei per poco non mi spezza il polso. Il bacio lo aveva frastornato. Di certo aveva superato il limite, ma non se ne pentiva. Era stato fantastico. Se ne tornò a casa a piedi, da solo, assaporando il gusto dolce amaro del distacco, elettrizzato dalla propria audacia. Forse aveva infranto una regola o due, dandole il porta cipria e suggerendole di riempirlo con il veleno per Toby. Chissà. Non esisteva un vero regolamento per Younger Games. D'accordo, magari aveva trasgredito, ma Lucy Gray era in gamba e sfortunata quanto gli altri. Loro avrebbero dovuto ingerirlo, il veleno, perciò lui aveva il compito di procurarle del cibo da usare come esca. Sentì di avere più controllo. Adesso che aveva qualcosa da fare, oltre a starsene lì a guardare. La signora nonna andò a letto, e subito dopo Coriolanus si confidò con Tigris. «Credo si sia innamorata di me». «È chiaro. Tu cosa provi per lei?» chiese. «Non lo so», rispose. «Le ho dato un bacio d'addio». Tigris inarcò le sopracciglia. «Sulla guancia?» «No, sulle labbra». Pensò a come spiegarlo, ma riuscì a dire solo «Lei è diversa». Il che era innegabile, sotto molti aspetti. La verità era che lui non aveva una grande esperienza con le ragazze, e ancor meno con l'amore. Tenere segreta la situazione degli Snow era sempre stata la sua massima priorità. Succedeva raramente che i due cugini invitassero qualcuno a casa, anche quando Tigris si era innamorata, all'ultimo anno di Accademia. La riluttanza che aveva dimostrato nel portare a casa la sua fiamma era stata presa per una scarsa voglia di impegnarsi, e questo era stato un fattore determinante nella rottura. Coriolanus aveva considerato l'incidente un ammonimento a non farsi coinvolgere troppo da nessuno. Molte compagne di classe avevano mostrato interesse nei suoi confronti, ma lui le aveva sempre tenute a debita distanza. La scusa dell'ascensore guasto si era rivelata utile, e la signora nonna aveva sofferto di parecchi disturbi fittizi che richiedevano assoluta tranquillità. C'era stato quell'unico episodio, l'anno prima, nel vicolo dietro la stazione, ma non si era trattato tanto di un idillio quanto piuttosto di una sfida che Festus lo aveva spinto ad accettare. Tra la posca e il buio, il ricordo era a dir poco approssimativo. Ripensandoci, non aveva mai neanche saputo il nome della ragazza, ma la vicenda gli era valsa la reputazione del playboy. Però Lucy Gray era il suo tributo, diretto nell'arena, e anche se le circostanze fossero state diverse, sarebbe comunque stata una ragazza dei distretti, o perlomeno non proveniente da Capitol City. Una cittadina di serie B. Umana, eppure con una componente animalesca. Intelligente, forse, eppure non evoluta. Parte di un'informe massa di creature disgraziate e selvagge che alleggiavano ai margini della sua consapevolezza. Di sicuro, se mai era esistito un'eccezione alla regola, quella era Lucy Gray Bird. Una persona che sfidava le facili definizioni, una specie rara, proprio come lui. Per quale altro motivo, se no, la sola pressione delle sue labbra gli aveva mandato le ginocchia in pappa. Quella notte si addormentò pensando e ripensando a quel bacio. La mattina degli Hunger Games sorse limpida e luminosa. Coriolanus si preparò, mangiò le uova che gli aveva preparato Tigris, e intraprese il lungo, caldo cammino fino alla sede di Capitol TV. Rifiutò il trucco pesante con cui Lucky si era stuccato la faccia, ma accettò una leggera spolverata di cipria per non apparire troppo sudato davanti alle telecamere. Calma e imperturbabilità. Erano quelle le caratteristiche che doveva mostrare uno Snow. La cipria aveva un profumo dolce, sì. Ciò nonostante, era priva della raffinatezza di quella di sua madre, nascosta nel cassetto dei calzini a casa. Buongiorno, signor Snow. La voce della dottoressa Goal lo fece scattare sull'attenti. Era ovvio che anche lei fosse nello studio televisivo, dove altro avrebbe dovuto essere la mattina di apertura dei giochi. Perché invece il decano High Bottom avesse ritenuto necessario presenziare non lo sapeva. Ma i suoi occhi ci sposi scrutavano Coriolanus dall'alto. Abbiamo sentito che ieri sera c'è stata una scena davvero toccante quando ti sei separato dal tuo tributo. Ah, ma era possibile trovare due persone meno capaci di provare amore? Come diavolo sapevano del bacio? La professoressa Sikel non sembrava una pettegola, perciò chi aveva sparso la voce? Era probabile che quasi tutti i mentori avessero visto. Pazienza, quei due non avrebbero ottenuto una reazione da parte sua. Come ha sottolineato la dottoressa Goal, le emozioni sono forti. Sì, peccato solo che ben difficilmente la ragazza arriverà a sera, disse la dottoressa Goal. Come li odiava, tutti e due, sempre compiaciuti, sempre lì a stuzzicarlo. Ma poteva concedersi solo un'indifferente alzata di spalle. Beh, come si dice, meglio non vendere le penne della ghiandaia imitatrice prima di averla uccisa. Fu soddisfatto nel vedere la perplessità sui loro volti. E non ebbero nemmeno la possibilità di fargli domande, perché apparve Remus Doolittle a informarli che il tributo maschio del distretto 5 era morto nella notte per complicazioni respiratorie dovute all'asma o qualcosa del genere. In ogni caso la veterinaria non aveva potuto salvarlo, e che quindi loro dovevano comunicarne il decesso. Per quanto ci provasse, Coriolanus non riusciva a ricordare il ragazzo, o quale dei suoi compagni avesse ricevuto l'incarico di fargli da mentore. In previsione dell'apertura dei giochi, aveva aggiornato l'elenco ricevuto dal professor Demiglos. Aveva deciso, per semplicità, di depennare le squadre a coppie, a prescindere da cosa era successo loro. Non voleva certo essere spietato, ma non c'era altro modo per non perdere il filo. Tirò fuori l'elenco dallo zaino per registrare anche quell'ultima vittima. Decimi Hunger Games. Mentori incaricati. Distretto 1. Maschio. Facet. Livia Kerdio. Femmina. Velverin. Palmira Monti. Depennati. Distretto 2. Maschio. Marcus. Seianus Plint. Femmina. Sabin. Florus Friend. Depennati. Distretto 3. Maschio. Cirque. Io Jasper. Femmina. Tesli. Urbanus Canvil. Distretto 4. Maschio. Mizzen. Persephone Price. Femmina. Coral. Festus Creed. Distretto 5. Maschio. Ai. Dionisius Fling. Depennato. Femmina. Soul. Ifigenia Moss. Distretto 6. Maschio. 8. Apollo Ring. Femmina. Genie. Diana Ring. Depennati. Distretto 7. Maschio. Trich. Vipsania Sichel. Femmina. Lamina. Plinius Harrington. Distretto 8. Maschio. Bobbin. Juno Phipps. Femmina. Wovi. Ilarius Heavensby. Distretto 9. Maschio. Panlo. Gaius Brin. Femmina. Schiff. Androclus Anderson. Depennati. Distretto 10. Maschio. Tanner. Domizia Wimsywick. Femmina. Brandy. Arachne Crane. Depennata. Distretto 11. Maschio. Mortifer. Clemencia Dovecote. Femmina. Dill. Felix Ravenstiel. Distretto 12. Maschio. Jessup. Lisistrata Vickers. Femmina. Lucy Gray. Coriolanus Snow. Il numero degli avversari di Lucy Gray si era ridotto a 13. Fuori un altro, e un maschio per di più, poteva essere solo una buona notizia per lei. Il foglio su cui erano segnati i mentori iniziava a essere un po' spiegazzato. Così decise di infilarlo nella tasca esterna dello zaino perché fosse più comodo prenderlo. Quando aprì la tasca però, vi trovò un fazzoletto. Rimase perplesso per un attimo, visto che il suo lo teneva sempre con sé, ma poi gli tornò in mente che quello era il fazzoletto che gli aveva restituito Lucy Gray dopo essersi asciugata gli occhi il giorno in cui le aveva portato la torta di pane. Era bello avere qualcosa di tanto personale, una specie di talismano, quindi gli fece scivolare accanto l'elenco con cura. Gli unici mentori invitati a comparire nella trasmissione che precedeva lo spettacolo erano i setti che avevano partecipato alla serata delle interviste. Erano diventati in automatico i volti di Capitol City per i giochi, anche se molti dei loro tributi parevano senza speranza. Un angolo dello studio era stato arredato con alcune poltrone, un tavolino da caffè e un lampadario un po' sbilenco. Quasi tutti i mentori riparlarono dell'ambiente da cui provenivano i loro tributi, enfatizzandone ogni possibile aspetto pericoloso. Dal momento che aveva riservato l'intera intervista alla canzone di Lucy Gray, Coriolanus era l'unico a disporre di materiale inedito. Contento di avere qualcosa di nuovo, Lucky Flickerman gli permise di sforare il tempo previsto. Dopo aver fornito i soliti particolari, Coriolanus impiegò gran parte dello spazio concessogli parlando dei covi e sottolineando che Lucy Gray non era proprio una ragazza dei distretti, no, per niente. I covi avevano una lunga tradizione di musicisti alle spalle. Erano artisti di un genere raro e non erano simili agli abitanti dei distretti più di quanto lo fossero i cittadini di Capitol. Anzi, a ben pensare, nella sostanza loro erano di Capitol City e solo per una malaugurata serie di disavventure erano finiti o continuavano a essere trattenuti, molto probabilmente per errore, nel distretto 12. La gente vedeva senz'altro quanto Lucy Gray sembrasse a suo agio lì a Capitol City, no? E Lucky dovette convenire che sì. Sì, la ragazza aveva qualcosa di speciale. L'isistrata gli scoccò un'occhiata di fastidio mentre prendeva posto. Occhiata di cui comprese il significato quando capì che la compagna stava tentando di collegare Jessup a Lucy Gray nella sua intervista e di conquistare il favore del pubblico per i due come coppia. Per quanto fosse vero che Jessup apparteneva in tutto e per tutto alla razza di minatori del distretto 12, non avevano forse dimostrato entrambi una naturale collaborazione fin dal primo inchino? E chi non aveva notato l'insolita vicinanza tra i due, così spesso assente tra attributi provenienti dallo stesso distretto. Anzi, l'isistrata era persuasa che fossero affezionati l'uno all'altra. Con la forza di Jessup e la capacità di Lucy Gray di affascinare il pubblico, era convinta che il vincitore di quell'anno sarebbe stato del distretto 12. Il motivo della presenza di High Bottom divenne evidente quando si sedette subito dopo l'isistrata. Riuscì a parlare del programma Mentori Tributi come se non fosse stato drogato per tutto il tempo in cui veniva sviluppato. In realtà Coriolanus trovò un po' inquietante la lucidità di certe sue osservazioni. Il decano dichiarò che, inizialmente, gli studenti di Capitol City avevano avuto dei pregiudizi verso i loro omologhi dei distretti, ma che nelle due settimane seguite alla mietitura molti avevano sviluppato stima e rispetto nei loro confronti. È fondamentale, come si dice, conoscere il proprio nemico. Perciò, quale modo migliore per arrivare a conoscersi se non unire le forze negli Hunger Games? Capitol City ha vinto la guerra soltanto dopo una lotta lunga e durissima. E di recente sono esplosi degli ordigni nella nostra arena. Immaginare che dall'una o dall'altra parte manchino intelligenza, forza o coraggio sarebbe un errore. «Ma non vorrà certo paragonare i nostri figli ai loro», disse Lucky. «Basta solo uno sguardo per capire che i nostri sono di una razza superiore». «Beh, un solo sguardo per capire che i nostri hanno avuto più cibo, indumenti più belli e cure dentistiche migliori», ribatté il decano High Bottom. «Presumere qualcosa di più, una superiorità fisica, mentale e soprattutto morale, sarebbe un errore. Quel genere di arroganza ci ha quasi distrutti in guerra». «Suggestivo», disse Lucky, apparentemente sprovvisto di una risposta migliore. «Il suo punto di vista è davvero suggestivo». «La ringrazio, signor Flickerman. Non mi viene in mente nessuno di cui stimi maggiormente l'opinione», ironizzò High Bottom impassibile. Coriolanus pensò che il sarcasmo del decano fosse più che evidente, ma Lucky arrossì a quella frase. «Molto gentile, signora High Bottom. Come tutti sappiamo, sono solo un umile meteorologo». «E' un illusionista in erba», gli ricordò il decano. «Beh, di questo potrei persino dichiararmi colpevole», replicò Lucky con una risata chioccia. «Aspetti, cos'è?», allungò la mano dietro l'orecchio di High Bottom e ne estrasse una piccola caramella piatta a righe vivaci. «Credo che questa sia sua». La offrì al decano, i colori che gli macchiavano il palmo umido. L'altro non accennò nemmeno a prendere la caramella. «Perbacco! Quella da dove è arrivata, Lucky?». «Segreti del mestiere», rispose il conduttore con un sogghigno d'intesa. «Segreti del mestiere». Alcune auto erano in attesa di portarli all'accademia e Coriolanus si ritrovò insieme a Felix e al decano. I due, che sembravano frequentarsi anche in società, lo ignorarono ampiamente e si lanciarono in uno scambio di pettegolezzi. La cosa diede a Coriolanus il tempo di riflettere su quanto aveva detto il decano a proposito degli ambienti dei distretti, che erano sostanzialmente uguali a quelli di Capitol City, solo in condizioni materiali peggiori. Era un'idea un po' radicale da esprimere in quel contesto. Di sicuro la signora nonna e molti altri l'avrebbero criticata, ma soprattutto sminuiva il tentativo di Coriolanus di presentare Lucy Gray come una persona del tutto diversa da quelle dei distretti. Si chiese in che misura il suo sforzo avesse a che fare con una strategia vincente e in che misura, invece, riflettesse lo smarrimento ispirato dai suoi sentimenti per lei. Fu solo mentre entravano nella sala, e una troupe televisiva distraeva Felix, che Coriolanus sentì una mano posarsi sul suo braccio. «Sai, quel tuo amico che viene dal due, quello emotivo?» gli chiese Highbottom. «Seianus Splint», disse, «non che fossero proprio amici, ma non erano affari del decano». «Forse dovresti trovargli un posto vicino alla porta». Highbottom tirò fuori dalla tasca la sua bottiglietta. Si nascose dietro una colonna lì vicino e si imbottì di gocce di morfamina. Prima che potesse riflettere sulle sue parole, arrivò l'Isistrata, arrabbiatissima. «Insomma, Coriolanus, potremo anche collaborare un po'. Jessup continua a dire che Lucy Gray è sua alleata. Non avevo idea che avresti puntato su quello. Davvero, non intendevo metterti in difficoltà. Se avremo un'altra occasione, lavorerò in un'ottica di squadra, promise». «È un gran bel sé», ribatté l'Isistrata con uno sbuffo esasperato. Satiria, che si era fatta largo tra la folla, non migliorò di certo la situazione quando disse, tutta esultante. «Che intervista astuta, mio caro! Per poco non convincevi anche me che la tua ragazza è nata a Capitol City. Ma adesso andiamo. Anche tu, l'Isistrata. Mi servono i tesserini e i bracciali comunicatori». Li guidò attraverso la sala, che era in pieno fermento, a differenza degli anni precedenti. La gente gli augurava buona fortuna, si complimentava con lui per l'intervista. Coriolanus si godeva l'attenzione, che però aveva innegabilmente qualcosa di inquietante. In passato quelli erano stati momenti sottotono, in cui le persone evitavano il contatto visivo e parlavano solo se necessario. Ora invece la loro impazienza riempiva la sala, quasi le attendesse uno spettacolo molto amato. Uno stratega a un tavolo sovrintendeva la distribuzione delle dotazioni dei mentori. A tutti venne assegnato un tesserino giallo acceso che riportava la parola «mentore» da appendere al collo, ma solo chi aveva un tributo ancora nei giochi ricevette anche il bracciale comunicatore, che di conseguenza diventò oggetto di invidia da parte degli altri. Durante la guerra, e nel periodo immediatamente successivo, tanta tecnologia personale era scomparsa, perché la produzione si era concentrata su altre priorità. E persino adesso certi dispositivi, per quanto semplici, erano ancora una cosa per pochi. I bracciali, dall'acciare al polso, presentavano un piccolo schermo sul quale lampeggiava in rosso il conto dei doni dello sponsor. I mentori dovevano solo scorrere la lista dei prodotti alimentari, sceglierne uno dal menu e cliccarci sopra due volte perché uno stratega ne attivasse la consegna tramite drone. Alcuni tributi non avevano ricevuto nemmeno un dono. Per quanto non fosse apparso nelle interviste, Mortifer aveva raccolto qualche sponsor grazie al periodo allo zoo. Invece Clemenzi, alla sua mentore, non si vedeva da nessuna parte e il suo bracciale comunicatore giaceva sul tavolo, attirando sguardi bramosi da parte di Livia. Coriolanus prese da parte l'isistrata e le mostrò il suo schermo. Guarda, ho una piccola fortuna con cui lavorare. Se Jessup e Lucy Grayson insieme invierò cibo per tutti e due. Grazie, io farò lo stesso. Non volevo scattare in quel modo. Non è colpa tua. Avrei dovuto parlartene prima. Fece una pausa. È solo che ieri notte non sono riuscito a dormire, pensando che avrei assistito a tutto questo. So che è per punire i ma non li abbiamo già puniti abbastanza. Per quanto dobbiamo prolungare questa guerra ancora? Credo che secondo la dottoressa Goll dovremmo farlo per sempre, rispose lui. Come ci ha detto in classe. Ma non è solo lei. Guarda tutte queste persone. Accennò l'atmosfera quasi di festa che regnava nella sala. Disgustoso. Coriolanus tentò di tranquillizzarla. Mia cugina ha detto che dobbiamo ricordarci che questa faccenda non è colpa nostra. Che anche noi siamo ancora dei bambini. Non aiuta però essere usati così, disse l'Isistrata in tono triste. Specie quando tre di noi sono morti. Usati? Coriolanus aveva sempre pensato che essere un mentore fosse un onore. Un modo per servire Capitol e magari ottenere un po' di gloria. Ma l'Isistrata non aveva tutti i torti. Se la causa non era onorevole, come poteva essere un onore aderirvi. Si sentì confuso. Poi manipolato. Infine indifeso. Come se fosse più un tributo che un mentore. Dimmi che finirà alla svelta, lo implorò l'Isistrata. Finirà alla svelta, la rassicurò Coriolanus. Ti va se ci sediamo vicini? Così possiamo coordinare i doni. Certo, rispose lei. Ormai si era radunata l'intera scuola. Si fecero strada verso la zona in cui avevano allestito i 24 posti dei mentori, nello stesso punto in cui si trovavano per la mietitura. Era stata richiesta la partecipazione di tutti quelli che erano in grado di intervenire, che avessero un tributo utilizzabile o no. Non sediamoci davanti, disse l'Isistrata. Non voglio avere quella telecamera puntata in faccia quando sarà ucciso. Aveva ragione, naturalmente. L'obiettivo sarebbe corso a inquadrare il mentore. E se Lucy Gray fosse morta, specie se Lucy Gray fosse morta, era sicuro che gli sarebbe toccato un bel primo piano. E lungo anche. Coriolanus la secondò dirigendosi verso l'ultima fila. Mentre si sistemavano, lui rivolse l'attenzione al maxischermo sul quale Lucky Flickerman faceva da guida turistica ai distretti, fornendo informazioni di base sulle loro industrie e vivacizzando il tutto con dati meteorologici e occasionali trucchi di magia. Gli Hunger Games avevano rappresentato una grossa svolta per Lucky, che non ebbe problemi ad accompagnare la tiritera sul distretto 5 con un aggeggio che gli faceva rizzare i capelli sulla testa. È elettrizzante, ansimava. E tu sei un idiota, borbottò Lisistrata. Poi qualcosa tirò la sua attenzione. Deve essere stata un'influenza proprio terribile. Coriolanus seguì lo sguardo della compagna fino al tavolo dove Clemenzia aveva appena ritirato il bracciale comunicatore. Stava perlustrando la sala in cerca di qualcuno. Ah, lui! Nell'attimo stesso in cui incrociò i suoi occhi, la ragazza puntò dritta all'ultima fila di posti e non aveva l'aria felice. In realtà aveva un aspetto tremendo. Il giallo vivo dei suoi occhi era sbiadito fino ad assumere un colore simile a quello del polline più chiaro. E una camicetta bianca con le maniche lunghe e il colletto alto nascondeva la zona squamosa, ma nonostante quelle migliorie, dava l'impressione di non essere affatto in salute. Si strappava distrattamente le pellicine secche del viso e la lingua, anche se non sporgeva più dalla bocca, sembrava determinata a esplorare in lungo e largo l'interno della guancia. Si fece strada fino al posto proprio davanti a lui e rimase lì, a staccarsi i pezzetti di pelle intanto che lo studiava. «Grazie per essere venuto a trovarmi, Corio», disse Clemenzia. «Volevo farlo, Clemmy, ma ero piuttosto marridotto», cominciò a spiegare. Lei lo interruppe. «Grazie per aver chiamato i miei genitori. Grazie per avergli fatto sapere dov'ero». L'esistrata sembrava perplessa. «Sapevamo dove eri, Clem. Hanno detto che non potevi ricevere visite perché eri contagiosa. Una volta ho provato a chiamare, ma hanno risposto che dormivi». Coriolanus seguì quella versione al volo. «Ci ho provato anch'io, Clemmy. Più volte. Hanno sempre fatto i vaghi. E quanto ai tuoi genitori, i dottori mi avevano garantito che sarebbero arrivati». Non c'era niente di vero, ma cosa poteva dire? Era chiaro che il veleno aveva sconvolto il suo equilibrio mentale, o non avrebbe tirato in ballo quella storia in pubblico. «Se ho sbagliato, mi dispiace. Come ho detto, anch'io mi stavo riprendendo». «Davvero?» disse lei. «Sembravi in ottima forma all'intervista. Tu e il tuo tributo». «Facci piano, Clem. Non è colpa sua se ti sei ammalata», intervenne Festus, arrivato in tempo per sentire quanto bastava della conversazione. «Chiudi il becco, Festus. Non sai di cosa stai parlando», si bilò Clemenzia, e furiosa se ne andò a sedersi quasi in prima fila. Festus si accomodò vicino all'Isistrata. «A che problema ha? A parte il fatto che sembra stia facendo la muta». «E chi lo sa, siamo tutti a pezzi», disse l'Isistrata. «Però non è da lei?» mi chiedo cosa cominciò a dire Festus. «Seianus, di qua!» chiamò Coriolanus, felice dell'interruzione. C'era un posto vuoto accanto a lui, e doveva cambiare argomento. «Grazie», disse Seianus, lasciandosi cadere nel posto alla fine della fila. Sembrava ammalato, sfinito, la pelle lucida di sudore come se avesse la febbre. L'Isistrata allungò il braccio oltre Coriolanus e gli strinse una mano. «Prima comincia, prima finisce». «Fino all'anno prossimo», le ricordò lui, ma rispose al suo gesto con una pacca riconoscente sulla mano. Avevano appena ordinato agli studenti di prendere posto quando il sigillo di Capitol City occupò lo schermo, e l'inno fece alzare tutti in piedi. La voce di Coriolanus risuonò al di sopra di quelle degli altri mentori che biascicavano il testo alla meno peggio. Amma insomma, proprio non potevano fare un piccolo sforzo in quel momento. Quando Lucky Flickerman ricomparve e allargò le braccia in un gesto di benvenuto, Coriolanus gli vide sul palmo della mano la macchia colorata della caramella che aveva usato per il trucco di magia. «Signore e signori», disse, «che i decimi Hunger Games abbiano inizio». Una panoramica dell'interno dell'arena sostituì Lucky. I quattordici tributi che rimanevano sull'elenco erano disposti in un ampio cerchio in attesa del gong di inizio. Nessuno fece caso a loro, ai nuovi detriti prodotti dall'esplosione delle bombe che ingombravano il campo, alle armi sparse sul terreno polveroso o alla bandiera di Panem che pendeva dalle tribune, aggiungendo un inedito tocco decorativo all'arena. Gli occhi di tutti si spostarono insieme alla telecamera, inchiodandosi nell'istante in cui zoomò sui due pali d'acciaio non lontani dall'ingresso principale. Erano alti sei metri, uniti da una traversa di lunghezza analoga. Al centro della struttura c'era Marcus, appeso per i polsi ammanettati, martoriato e insanguinato al punto che in un primo momento Coriolanus pensò stessero mostrando il suo cadavere. Poi le labbra gonfie di Marcus cominciarono a muoversi, facendo vedere i denti rotti e sgombrando il campo da ogni dubbio.